L'ha passato, Adamo ha faticato, appena ce l'ha fatta, come vediamo in questo momento Grattugione sul terrapieno, un mezzo problemino alla moto che dopo non andava più come prima, forse il cambio Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo qua, quarta prova MXGP del Trentino Si ritorna in Italia dopo un weekend di Rolassardo, quindi due prove in stecca Si rimane in Italia, si ritorna sulla terraferma Si ritorna sulla terraferma, siamo passati dal sabione in cui monoscarico, forcella dura e pala La pala rimane perché ormai arco di Trento è diventata Mantua È diventata Mantua, quindi terreno duro sotto e sabione sopra Bucca e Lollo c'erano? Ce lo puoi dire sicuramente meglio te perché Alessi è andato a vedere, domenica io ero ad allenarmi in moto Perché lo devo battere Sta cercando di recuperare ogni minimo secondo Oltretutto, cioè io, mi zio, sono cambio moto quindi sono in fase di adattamento C'è un allenamento in più, come minimo ci agganciamo fuori dal cancello Due metri, l'esignano, siamo l'esignano Sarebbero due metri così, straninati Comunque, a parte questo, GP del Trentino La pista, come al solito, in un paradiso È un posto veramente bellissimo Pista che negli ultimi anni è diventata sempre più sabbiosa Quest'anno è proseguito il trend Mi diceva anche Alessio, me l'ho visto anch'io dalla TV Secondo me non segnata come l'anno scorso Mi sembrava più canalata l'anno scorso L'anno scorso era più rovinata Hanno messo a posto diversi punti, tipo anche le rampe così Più volte nella giornata, giustamente Perché ormai i salti di Arco di Trento Non sono più quelli di una volta Ma i salti sono veramente grossi Nella tribuna, quella centrale dove c'è la pietra Dove c'era una volta la pietra gigante Che ormai hanno tolto Dove l'ha messa l'ho quella lì? Non so L'ha tritata? Come hanno fatto i univerdi? Secondo me No, ci sono presi male Comunque, in quella curva lì a sinistra Una volta si andava su sparati Adesso ormai c'è un triplo-doppio Non si capisce cos'è che si è distrutto Che Fevre, nella seconda manche, l'ho visto Faceva doppio Poi doppio ancora Entrare nel canale Anche The Wolf Anche The Wolf Faceva così Rimane comunque un tracciato molto pericoloso Un po' stretto Per correrci un mondiale con le motti adesso forse Con così tanta terra riportata Quando si scopre la pietra Voli via Sì, pietra e Perché non te l'aspetto Buche secche Comunque, buche grosse e secche Ormai il triplo è sdoganato Poi sto grosso, eh Finché lo vedi di fronte È un bel salto Di lato Mamma mia Poi ogni volta che lo sparano in bagarre C'è il buato del pubblico Insomma Capisci qualcosa che non farebbero tutti, no? No, no Guardiamo qualche gara Parte gara 1 MX2 Partenza che negli anni cambiata Si torna indietro Si vola sulla pit lane A partire in testa È proprio lui Sasha Cone Sasha Cone T-Bo e vai in instant secondo E Kai The Wolf terzo Che però in 4 e 4-8 Senza problemi direi Passa in testa ed impone il suo ritmo Il nostro Adamo leggermente più attardato Cos'era? Quarto o quinto Quarto o quinto Una buonissima qualifica per lui il giorno prima Vincendo la match di qualifica Passa all'esterno Marc Antoine Rossi Qui vediamo il famoso triplo Come dicevamo Com'è il drone? Ti fai percepire bene il salto Il drone Tutto il weekend girava Così Kai The Wolf si sdraia bene Per tirarla su poi Qua vediamo la bagarre Super interessante Tra Benistan E Il nostro Andrea Adamo Gara molto Gara intensa direi Adamo ha fatto fatica A passarlo E non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Perché Praticamente Benistan è andato a prendere Spingendo entrambi Sono andato a prendere Conan Benistan l'ha passato Adamo ha faticato Appena ce l'ha fatta Come vediamo in questo momento Grattugione sul terrapieno Un mezzo problemino alla moto Che dopo non andava più come prima Forse il cambio La leva si è piegata Non lo sappiamo Ci ha messo anche un po' di tempo A tirarla su Sì Problema per Michela Arup Non sappiamo niente Ragazzi Cosa è successo qua? Non lo sappiamo Primo problema per Triumph Sì Reale Visibile Però ci hanno detto che L'ho fatto tutta l'aria La moto quando è entrata Nei box C'aveva la gomma davanti La ruota davanti Tipo 20-30 cm Mentre più avanti Del solito Dicono si è crepato Il canotto di sterzo Anche perché Dopo la moto Una volta entrata in box L'ha incoperta E l'ha buttata via Non lo so Non si sa cosa sia successo Non si sa cosa sia successo Sarebbe interessante saperlo Ipotizziamo che la moto Abbia fatto 4 gare Quindi 8 manche Più le restante prove Quindi sono 5 weekend 20 turni diciamo Se il telaio Ci sta In prototipo No Lollo È comprensibile Per la prima volta Che fanno una moto Da cross Ci sta Quindi ci sta Non si sa cosa è successo Magari è successo un'altra cosa Nel senso Sky The Wolf In scioltezza Vince Gara 1 Il 10-30 del Trentino Con ormai il suo segno di battaglia Che è questo qua Con secondo Tipo Benistant Seconda Manche parte in testa Simon Langenfelder Con Kai The Wolf Sgommata sulla schiena Caduta in prima curva The Wolf Colpito malamente Nella parte posteriore Perché è a corso Senza parafango Impronta Le pirelli sulla schiena Protezioni poche Quasi nulle Diciamo che Quando ne hai bisogno Della protezione È meglio che ci sia Simon Langenfelder Parte al comando Lo vediamo a spararsi Il triplone Al primo giro Prima manche Disastrosa per lui Caduta Ha fatto nono Se non sbaglio Quindi tanta roba Partire in testa La seconda manche Molto bene qua invece Andrebbe una corsa Che parte secondo Ma Regge il ritmo Per metà manche Impressionante Direi Impressionante Super complimenti Viene passato da Everts Everts Ha dimostrato Questa gara Che senza fare cose strane Senza dare troppo nell'occhio Guidando come sa fare Insomma Vinci un GP Impressionante La guida di The Wolf Nella seconda manche L'abbiamo visto Ormai lo vediamo sempre davanti Quindi non è il 100% Questa seconda manche Invece 100% Si vede anche da Queste piccole Indecisioni Ci sono comprensibili Quindi Simon Lagenfelder Vince la seconda manche Con Everts Secondo Che si porta a casa Il GP Il GP Terzo Andrebbero a corsi Conclude terzo Primo terzo di manche Tanta roba ragazzi Primo anno di mondiale È partito un po' Così in sordina Con un fisico Sicuramente Non da due e mezzo No Qua è partito bene Per la prima volta Che parte bene Dimostra che può essere Starsi tranquillamente Davanti Classifica del campionato Complice Una brutta gara Di Lagenfelder De Wolf Rimane agli stessi punti Dall'altra volta Quindi 29 punti Di vantaggio Con terzo che passa Benistante Lucas Konen Brutta gara Brutta gara Un infortunio Il martedì Partito Un cappottone In allenamento Un problema alla spalla Non ci sa bene cosa Adamo Quinto Parlando sempre Di italiani Ferruccio Zanchi Presente alla gara Ma non Schierato al cancello Partecipante Non partecipante Ha detto che Gli è uscita una spalla Due settimane fa In allenamento E adesso sta facendo Tutto il possibile Per cercare di rientrare Per la prossima gara Certamente in settimana Speriamo che per il Portogallo Sia Reperibile perlomeno Partenza di Gara 1 Invece MXGP Con Prado Sfortunato Nelle quali race Perde la sella Mentre in testa Ci sta Era ora Era ora Che succedesse qualcosa Gliela rimontano Riperde di nuovo la sella Quindi posizione al cancello Disastrosa Ma Un old shot man Non sbaglia Non gliene frega un cazzolo E parte in testa lo stesso Seguito comunque da un Fevre Che dice di aver lavorato Tanto sulle partenze E probabilmente Non solo quelle Perché Fevre quando arriva in Trentino Va forte Si arrappa Secondo me si arrappa Lo vedo bello gasato Ha vinto la qualifica del sabato Domenica L'abbiamo visto in una gara 1 Veramente Molto molto forte E competitivo Bello A me a Fevre piace A Fevre gli piace Sicuramente gli è piaciuto Vedere questo sorpasso L'hai visto in diretta Certo L'hai visto L'ha visto in diretta Io ero appena di sopra Ero appena di sopra L'hai visto in diretta Tra l'altro pensavo Che non passasse Ma perché ha avuto Una decisione Prado E Fevre passa al comando Prado leggermente inferiore In questa prima manche Secondo me Prado arriva molto Forte In questa curva Tutti attaccati Erano Tutti attaccati Geiser lo passa Sbagli anche qua Io continuo a pensare Che sia la gomma Che non l'ha aiutato Può essere Perché Chi ha usato la gomma da sabbia Come Prado ha usato In questa gara Sa benissimo Che ti dà tanto In accelerazione Ma poi perdi tanto In staccata Perché Non hai il tacchetto In staccata Hai Una specie di raccordo Ok Quindi non hai Lo spigolo Non hai il tacchetto Questo non ti aiuta Sicuramente in staccata E qua Sei anche visto Arrivato molto lungo In questa staccata E Fevre Che arriva Un pochino stanco Forse anche C'era un po' di distacco Ultimo giro Fevre Ma a distanza Tipo 2-3 secondi aveva 4 Girava sereno Nell'ultimo salto Ho visto Geiser Che è atterrato Nell'ultimo giro Proprio così Era così Era Ho detto Sai un po' strano Che ci provi Cioè nel senso Era un po' distante No Poi Guardo Si avvicina Si avvicina All'ultima cura Gli era lì Che se vuole fare Ha provato a passarla Ha provato Ci ha provato Ma ormai Fevre di esperienza Doveva partire un giro Prima da partire almeno Sì Di esperienza Forse non ha visto il cartello Può essere O magari Cioè Come la Wisp No magari Gli è caduto in un momento lì Partenza invece Della seconda mancia MCP Prado cambia La gomma Ma non Non è il risultato Diciamo Della partenza Non cambia niente All shot Secondo all shot È la giornata per Prado Terzo con anche Quello della magia di qualifica È passato Alla gomma da sabbia Quindi il pirelli Da morbido Alla gomma da mid soft Quindi la gomma Quello che piace a Lollo Medio duro Vabbè piace L'ho sempre usato Quindi Ti piace però Continuo ad usare quello J.H. qua Pensa di essere Non so All'Ommel Sì È rimasto Il tenere di Riolo Smanopellata esagerata Perde il dietro Un po' all'atomac Sì Lo sgommatone Un Prado gasato Dalla partenza Seguito da un Romano Fevre Molto veloce È un Blunder Che ci ha sorpreso Questo weekend In maniera positiva Si fa passare invece Da Geyser Qua nella pit lane Grande accelerazione Per la Honda Prado come lo vedi Prado rigido Rigido L'ho visto questo salto qua Sul triplone Fevre lo riprova a passare Questa volta Chiude Mentre Fevre Invece Si Straia Lo vediamo qua Tra l'altro con un secondo posto Avrebbe vinto Il GP Ultimamente lo vediamo Molto più sul pezzo Ma vabbè Ci sta l'errorino Il terreno è duro Insomma è un po' così Molto infido Prado in super tranquillità Vince Questa gara Con Vlanderen Gasato duro Secondo Prado così Vince Il GP Ancora Questo cazzo di GP Il quarto in stecca A quasi otti marroni Comunque Classifica di campionato Viene Prado primo Geyser secondo E Fevre terzo Insomma le tre potenze Di questo campionato Un JH un po' Inizio di stagione in salita Velocissimo Perché nel weekend È stato molto veloce Molto 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 veloce Nella seconda manche Aveva 30 secondi Di stacco da Prado E non cambiavano Il post su Instagram dice Risultati Velocità da vittoria Risultati da piangere JH non è contento Secondo me È ora Che vinca un GP Sì Televisione sparita Ed è tempo Di Pagelle Pagelle importante Sto giro Il pubblico italiano Lo incita All'infinito Ma con due partenze così Non si può fare di più Da salvare Solo la quali Adamo 5 e mezzo Ha fatto un po' Il web Capitalizza il più possibile E senza vittorie Alla fine del weekend È quello che ha preso Più punti Un vero peccato L'infortunio Ad inizio stagione Per Evert 9 Fantasmi Alleggono nella testa Del 2-4-3 Che per tutto il weekend Di gare Rimane molto cucito Ed attento Perché l'anno scorso Ci ha rimesso il campionato Giusto così Geyser 7 Si rivedono sprazzi Del romain Che conosciamo Con quella guida grezza Come la carta vetrata Del 20 Un vero peccato La caduta in gara 2 Fevre 6 e mezzo Dimostra di avere il ritmo Per rimanere comprato Ma allo star di gara 2 Dà una palata al gas Che lo fa cimentare In una rimonta Da fondo gruppo Erlings 5 Gas gas Ritorna a casa Con due selle In meno Ma un trofeo In più Perché il numero 1 E la tabella rossa Stanno veramente bene Insieme Prado 9 Ritorniamo in studio Per due conclusioni Finali Quindi abbiamo visto Un Prado Velocissimo Un Erlings Molto veloce Partenza Molto molto importante In questo GP Assolutamente Passarei Più degli altri Passarei Terramente difficile Più che altro È allucinante Penso Il livello Vediamo Una brutta parrenza Di Polankfelder Con qualche errorino No No Gara 2 Parte primo Vince Ma va via C'hai capito È sciolto Buonaccorsi Prima manche Undicesimo Adesso è un ragazzo giovane Però Seconda manche Parte secondo Fa terzo La partenza Al 90% La gara Un inizio di campionato Disastroso Parte bene E lì davanti Fa primo foglio dell'anno L'importanza Nella partenza Sempre di più Soprattutto in piste Come questa qua Purtroppo Adamo Non partito bene Ha fatto un po' di cose Strugby race Sesto e settimo C'è Disastro Disastro Sì Vabbè Magari Però Sì Magari Però È importantissimo Quando la partenza Conta un pochino di meno È la pista Con la pista Molto molto segnata Con molti canali I canali Fanno una differenza Molto evidente C'è Molto evidente nella guida Poi insomma Anche i sabbioni Eccetera Conta un po' nella partenza Però adesso È arrivato il livello Lo sport Il livello di tutti gli atleti Che È così Allora la manche La spingono dall'inizio alla fine Cioè Bonacorsi Ha fatto il miglior giro Della sua manche Oltre di un bel po' La metà manche Cioè Nel senso Sei terzo no? Sei sereno sei in teoria T'ha passato da Everts Hai il quarto Che è un po' lontano Non dico che devi passeggiare Ma non ti spara il best lap Della manche Lì di solito O no Di solito Ti vedi Cioè Se fai una gara di regionale O di italiano Beh i primi due giri vai forte Poi dopo Prendi il regno Sono gente che è preparatissima Però i primi giro Cioè le fanno il primo giro Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto giro Il best della manche Il re è Erlings Il solito Gli ultimi tre giri fa il best Fatti gli ultimi giri andava fortissimo Questo weekend C'è stato un momento che fa Ricciotti diceva Sta girando quattro secondi più forte E i tre che vado avanti Quattro secondi C'è Quattro secondi Che c'è un altro sport Vero potete venire a fare un regionale Ragazzi Il video si conclude qua Ricordatevi sempre di Iscrivervi al canale Mettermi piace Condividere il video con gli amici E Non so Attivare la campagna delle notifiche Quello è secondario Ma è importante Così si dicono Oh frà Scusate il video di star Paola vederlo E ci vediamo Per la prossima prova Di mondiale Che sarà Portogallo Agueda Pista storica del campionato Anche quello Misto Sabiolino È diventata Un po' strano Bella Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti